La sera del 5 gennaio 1984 il giornalista siciliano Pippo Fava fu ucciso da cinque colpi di pistola sparati da alcuni membri del clan mafioso catanese dei Santa Paola. Si trovava davanti all'ingresso del teatro stabile di Catania dove era andato per assistere a una rappresentazione della commedia Pensaci Giacomino di Pirandello in cui recitava sua nipote. Fava fu il del secondo giornalista intellettuale ucciso dalla mafia nel giro di sei anni. Il primo era stato Peppino Impastato il 9 marzo del 1978 a Cinisi. Aveva 58 anni e in quel momento dirigeva i siciliani un quotidiano che in pochi mesi era diventato molto noto in Sicilia per via dei suoi servizi giornalistici di denuncia contro la mafia e l'illegalità nella regione. Una settimana prima dell'omicidio il 28 dicembre del 1983 durante un'intervista concessa a Enzo Biaggi Fava aveva pronunciato delle frasi di denuncia inequivocabili. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa roba da piccola criminalità che credo che faccia parte ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. Era nato a Palazzolo a Creide in provincia di Siracusa il 15 settembre del 1925, frequentò l'università a Catania dove studiò giurisprudenza e intraprese la carriera da giornalista subito dopo la laurea. Divenne giornalista professionista nel 1952. Fava ha fatto del giornalismo uno strumento di irrinunciabile libertà, l'indipendenza, dell'informazione e la salvaguardia dal suo pluralismo sono condizione strumento della libertà di tutti, pietra angolare di una società sana e di una democrazia viva, lo ha ricordato così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo l'omicidio le indagini precedettero a rilento anche per via di alcune false testimonianze. Nel 1993, grazie a quelle fornite ai magistrati dal collaboratore di giustizia Claudio Severino Samperi, iniziò l'operazione definita Orsa Maggiore che dispose 156 mandati di cattura contro persone affiliate al clan di Nitto Santa Paola per associazione a delinquere di stampo mafioso e per alcuni omicidi, tra cui quello di Fava. Il processo iniziò nel 1994 e si concluse nel 2003, quando la Corte di Cassazione confermò la condanna all'ergastolo per Nitto Santa Paola e suo nipote Aldo Ercolano, ritenuti rispettivamente mandante e uno degli esecutori dell'omicidio.